ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it un saluto a tutti da fabio ambrosi e dal cappello che molti di voi ormai stanno considerando più del sottoscritto quindi io vi ringrazio il mio cappello vi ringrazia commentate questo cappello qui nei commenti e lui è soddisfatto a lui basta pochissimo in realtà ecco il cappello mio è vivo ha una vita propria quando vede un commento che lo riguarda e applaude solo che poi sotto c'è la mia testa il resto schiacciato ma vabbè cavolate a parte di cosa parliamo quest'oggi oggi parliamo dell'integrazione tra adobe premiere pro e adobe after effect perché ne parliamo beh io in questo periodo non dovrei dirvelo in realtà ma ve lo dico un po così sotto banco sto lavorando ad un bel progetto per un importante sito di informazione italiano progetto che uscirà probabilmente a dicembre probabilmente a gennaio vedremo e sempre più spesso mi sto trovando nella situazione di lavorare un po in premiere e un po in after effect un po in premiere un po in after effect faccio avanti e indietro come un matto ovviamente senza esportare nulla perché la potenza di premiere è che è un software adobe e che quindi comunica con gli altri software adobe noi nel corso base di premiere pro abbiamo visto come sia possibile spedire per esempio una timeline ad audition per lavorare l'audio in realtà vi ho fatto anche già vedere come sia possibile lavorare con after effect ma oggi lo vedremo un pochettino meglio e poi vi ricordo che c'è il corso online a distanza di premiere pro si c'è il corso gratuito qui su youtube molti mi dicono c'è il corso gratuito perché dovrei fare un corso privato c'è il corso online di premiere pro dove per 20 ore vi faccio vedere come funziona premiere su skype su zoom e soprattutto io voglio vedere come lavorate voi quindi posso darvi dei consigli guardando voi che lavorate per maggiori informazioni cercate corso online di premiere pro sul mio sito internet www.fabbiabrosi.it o scrivetemi un'e-mail ad info chiocciola fabbiabrosi.it vi darò più informazioni vabbè poi ne riparleremo a fine a fine video se vi interessa detto questo torniamo a noi come si fa di cosa stiamo parlando basta parlare premiere c'è anche il campanellino che ci avvisa che siamo arrivati in premiere pro altro campanellino allora quando le change vediamo di cosa stiamo parlando questa è una timeline questa è la timeline del video tutorial dell'ultimo video tutorial quello dedicato alla sonorizzazione delle clip ma non è questa la cosa importante la cosa importante che io voglio per qualsiasi motivo lavorare un pezzo di questa timeline in after effect perché per esempio voglio applicare al mio volto bellissimo e al cappello che sapete ci tiene particolarmente un effetto glow un bagliore ora premiere è un software stupendo ha moltissime funzionalità a tanti strumenti a molti effetti gratuiti che vengono venduti già con il software ma non ha un effetto glow soddisfacente e soprattutto altra cosa le maschere di premiere pro fanno si può dire cagare qualcuno si offende no non si deve offendere perché è vero lavorare con le maschere in premiere è un inferno e spesso è più pratico andare in after effect per fare delle operazioni di masking un po più complesse e poi tornare a lavorare in premiere ora qual è la procedura che si utilizzava fino a diverso tempo fa in realtà perché già da tempo i due software comunicano però la prima cosa che uno farebbe qual è esportare la clip che si vuole lavorare in after effect ricaricarla in after effect riesportarla in premiere pro e continuare a lavorare beh si può fare così ma è scomodo noi vogliamo essere veloci non vogliamo perdere tempo quando lavoriamo quindi per esempio ipotizziamo che io abbia intenzione di inserire un effetto glow sulla faccia mia nella prima parte del video ok fino a quando perlomeno non parlo ok qui avevo fatto un taglio ok dicevo fino a quando non non torno in premiere pro ipotizziamo di voler mettere un glow fino a qui ok che cosa faccio faccio un taglio ora lasciamo stare il fatto che qui c'è una tendina facciamo finta che non ci sia altrimenti ci complichiamo la vita apri con taglio ricordate come si fa con la lettera c abilito lo strumento di cat taglio e con la vi torno in modalità selezione se non sapete di cosa stiamo parlando c'è il corso quello gratuito qui su youtube e a questo punto delimitato una porzione di timeline o una clip separata dalle altre clip quindi io posso prendere questo frammento di video tasto destro del mouse e cliccare sulla voce sostituisci con composizione after effect prima però notate come io qui stia lavorando sulla clip originale che è questa per intenderci ok adesso io vado a inviare questa clip ad after effect sostituisci con composizione after effect viene aperto after effect verrà creata una nuova un nuovo progetto after effect e una nuova composizione after effect io vado progetto premiere a e per esempio quindi io devo salvare un progetto nuovo after effect salvo e automaticamente questa porzione di clip questa qui viene portata dentro ad after effect e viene sostituita una composizione guardate adesso come questa clip punti ad un nuovo oggetto in nel progetto di premiere che è un progetto corso è se andate a leggere i dettagli vediamo se compaiono vedete è una composizione collegata quindi in altre parole questo questa porzione di timeline di video è stata sostituita con la composizione del progetto after effect su cui stiamo lavorando bene torniamo in after effect qui posso fare quello che voglio quindi posso applicare il mio bellissimo effetto glow su questa clip stilizzazione bagliore quanto è bello questo effetto in premiere non c'è di default quindi posso far brillare il mio volto ok come fosse quello della barbara d'urso per capirci e posso salvare ctrl s per salvare questo progetto after effect e ora si posso tornare in premio guardate automaticamente le modifiche fatte in after effect vengono subito recepite da premiere pro senza fare export senza spedire file la comunicazione è istantanea ma non solo io chiaramente in after effect posso fare qualunque cosa e questa è una composizione a tutti gli effetti in after effect quindi per esempio posso trasformare questo livello in un livello 3d e quindi per esempio sapete cosa vuol dire no lo posso ruotare ora non mi dilungo troppo se avete seguito il mio corso in aft di base di after effect sapete di cosa sto parlando posso per esempio creare una nuova luce di qualunque tipo che noi indovinate come chiameremo luce eccola qua la vado ad alzare sto lavorando di fantasia è ovviamente voi potrete dovete essere più bravi e pratici di me posso fare questo lavoro di dondolo ok di di pendolo quale dondolo se volessi però non lo facciamo adesso lasciamola così posso far muovere questa card da sinistra verso destra insomma quello che voglio dire è che potete divertirvi veramente come volete in after effect no quindi facciamo che va qui poi prendiamo questa clip per me è una card la facciamo la facciamo adagiare qui abbiamo inserito un secondo keyframe ok non esageriamo altrimenti chiaramente le cose vengono le non so quanto senso abbia quello che io stiamo facendo ma non è importante è che voi capiate l'utilità la grande utilità che poter lavorare in after effect a quando si lavora ad una clip in premier pro ad ogni modo salviamo con contro l'essio con questa faccia da da pesce l'esso torniamo in premier pro e vedete che automaticamente le modifiche vengono recepite automaticamente quindi quello che abbiamo fatto è stato eccolo qui su come si taglia un video si sposta un video ecco si sposta un video questo per mostrarvi quanto sia in realtà semplice e utile lavorare con una clip in after effect da premier pro ora abbiamo fatto un esempio stupido e molto semplice non vado troppo nel dettaglio ma in realtà c'è poco altro da dire cioè dovete lavorare con after effect salvare e automaticamente la clip viene modificata anche in premier pro prima però una piccola raccomandazione attenzione attenzione perché se voi applicate molti effetti complessi in after effect quindi se avete una una sequenza una composizione particolarmente complicata quindi ipotizziamo non so che io vada a duplicare questa clip per qualunque motivo e la vada ad alzare un pochettino no posso fare tante cose belle e divertenti l'unica l'unico limite in after effect è la vostra fantasia dicevo se io vado a complicare tanto una sequenza ovviamente poi quando si ok vedrò l'effetto del mio lavoro sempre che io salvi questo è importante salvare altrimenti l'effetto non si vede però il punto qual è il punto è che il tempi di rendering della clip in 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 premier aumentano quindi vedrete automaticamente una barra rossa e se mandate in play oppure prendete un film del ok questo caso siamo fortunati però in altri casi potrebbe non essere renderizzato il video in tempo reale quindi in questi casi avete imparato nel corso introduttivo mettete un in e un out e fate enter e lasciate renderizzare per vedere poi il video scorrere fluidamente si può dire fluidamente forse no sapete però vabbè lo diciamo ugualmente ecco www.fabianprosi.it lo ricordo perché sul mio sito c'è sono aperte lo ripeto prima di salutarci le registrazioni al corso online di premier pro se volete partecipare come dicevo all'inizio del video sto mettendo insieme delle piccole classi di persone che vogliono fare 20 ore di corso premier con me ci vedremo su skype su zoom un paio di volte alla settimana il corso non è gratuito ovviamente perché sarò io presente fisicamente non con dei video registrati e sono dei corsi a tutti gli effetti con la differenza che voi condivide condividerete il vostro schermo con me e io controllerò quello che voi fate e vi potrò dire sì questo è giusto questo è sbagliato oppure se voi non doveste capire qualcosa o se dove avete dei dubbi potrò rispondere e aiutarvi è un corso a tutti gli effetti quindi dalle funzioni base di premier vedremo poi cose anche più complesse tra cui anche come lavorare in after effect in maniera interattiva se volete partecipare a questo corso potete avere maggiori informazioni sul sito internet www.fabioambrosi.it oppure basta scrivere una email ad info chiocciola fabioambrosi.it e sarò felice sia di darvi tutte le informazioni che volete ma soprattutto sarò felice di farvi pre registrare e poi di informarvi quando il corso comincerà a tutti gli effetti commentate è importante questo video se avete richieste particolari per altri tutorial cose che non sapete fare che volete vedere se volete insultare lui il vero protagonista di questi video il cappello insultatelo insultatelo che lui è con no non è vero siate magnanimi con il cappello che lui ci tiene a queste cose mettete un like se vi fa piacere ma soprattutto iscrivetevi a questo canale youtube e dai seguitemi anche su instagram cercate fabioambrosi e cercatemi anche su facebook seguite la pagina fabioambrosi grazie 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 per avermi seguito l'appuntamento è al prossimo video tutorial ciao